With me a while across the sand I'm your man If you want to love me I'll do anything that you can... Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste cioè che io, anche in una società più decente di questa mi ritroverò sempre con una minoranza di persone ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza Va bene, auguri E qui